Eccoci qua, buonasera a chi ci segue e naturalmente a chi ci seguirà anche nel corso della settimana per le repliche di questa trasmissione che ormai sappiamo benissimo e sentiamo la sua e il protagonista di questa sera ma soprattutto all'ospite bellissimo che ha accettato il mio invito e in particolare di questa mittente televisiva è il presidente dell'autorità portuale, io ancora la chiamo impropriamente autorità portuale, sarebbe, se no dovessero ricorrere all'acronimo ADSP, lì c'è l'autorità di sistema portuale, il dottor Pino Musolino. Dottor Musolino, buonasera. Buonasera a lei e grazie di avermi qui. No, e ancora grazie per aver accettato il mio invito. Così, questo porto, mi sembra che... Questa è una sfida importante, interessante, piacevole anche sotto certi versi perché chiaramente avere la possibilità di lavorare per i porti della capitale è sicuramente un onore. Non a caso si chiama Porto di Roma. Sì, poi ci torniamo su questo, noi ci chiamiamo Porto di Roma ma vorremmo esserlo molto di più. Il problema è che... Non ci siamo messi d'accordo, quindi stiamo veramente sintonizzati sulla stessa idea. E sono felice. Però, appunto, è stata una grande opportunità che io ho colto con grande favore. Non è la più facile delle sfide, devo dire la verità, sono stati... Guardi, sono cinque mesi e due giorni. Esatto. Anche se pare che sono sette anni che sono qua. E sono stati dei mesi complessi, difficili, anche particolarmente duri sotto alcuni aspetti, voi sapete, il bilancio, ma anche una serie di questioni che poi erano pendenti in alcuni casi da anni. Ma la stessa pandemia. Beh, è quella incombente, insomma, però quella diciamo vale per tutti. No, quindi io parlavo, diciamo, degli extra coefficienti di difficoltà che ho trovato qui a Civitavecchia. E poi non dimentichiamo, ce lo spiegavo ieri, che ero a Gaeta. Io ho la fortuna da un lato, ma anche l'onere dall'altro, di avere un sistema portuale che si snoda lungo 220 chilometri di costa. Il che non è facilissimo per poter seguire con l'adeguata attenzione Fiumicino e Gaeta. E quindi la stessa struttura proprio fisica di come è strutturata l'autorità di sistema apporta delle complessità. Come no? Altre realtà che hanno i porti molto più vicini o meno porti hanno ovviamente anche una migliore facilità di gestione delle operazioni. Io devo dirle, Presidente, che mi ha colpito molto subito il suo arrivo. Nel suo arrivo, no, 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 ma mi ha colpito in maniera molto positiva. A parte il fatto che lei è stato accompagnato, non dico da una stampa, però da dei giudizi molto positivi, perché evidentemente gli addetti ai lavori la considerano un grosso aspetto di portualità. E da quello che continuo... Ci provo. Sì, d'accordo, lei è molto protesto e questo le fa onore. Però continuo ad ascoltare e a sentire veramente dei giudizi molto positivi e mi fa molto piacere. Non fosse altro perché io sono un cilecchese puro e quindi siccome noi siamo sempre passati con questo mantra che il porto è il volano dell'economia cittadina e fino a oggi questo volano l'abbiamo visto poco, almeno questo è il mio giudizio, può darsi che sia molto riduttivo questo giudizio, però è così. Però mi ha colpito molto la sua intervista d'esordio. Lei ha messo, così, ha messo proprio il riflettore su un punto che io personalmente sono anni che l'ho batto, che l'ho batto, mettevo e mi ha fatto molto piacere. Dico, madonna, c'è un nuovo presidente che si è subito reso conto, evidentemente lei già, essendo che provenendo da una città come Venezia, da un'autorità, da un'autority come quella di Venezia, beh, così l'esperienza non le mancava. Lei ha detto sì, cilecchia è eccezionale perché effettivamente è così, si gioca la partita, tanto per usare la metafora calcistica della leadership croceristica, con Barcellone ogni anno, prima o seconda, prima o seconda, però il fatto che sia stato un po' tralasciato, l'aspetto perceologico, perché è un coso, se lo ricorda, lei ha detto adesso parola più, parola meno, però io mi sono segnato tutto perché sono abitato. E continuerò a dirlo finché non invertiamo la tendenza? Così mi ha colpito molto. Questo che significa, presidente, senza voler usare delle parole così critiche nei confronti dei suoi predecessori, significa che forse l'establishment di Bologhi Spucci al merceologico non ha barato troppo da quando è esploso questo fenomeno, io diciamo così, del crocerismo. Beh, vede, io posso fare un'analisi come dire ex post, no? Arrivando adesso. È evidente che quando uno ha la fortuna di avere una ricca eredità in casa, tende a fare due cose fondamentalmente. O la seconda generazione scatena l'ulteriore innovazione, l'investimento e cresce, o si siede sugli allori dell'eredità che riceve. Però ad aggersi sugli allori è pericoloso, eh? È molto pericoloso e noi lo abbiamo visto qui a Civitavecchia in tutta la sua drammaticità con l'esplosione del Covid, quando improvvisamente l'eredità ci è stata pignorata, se posso restare sulla metafora dell'eredità. E quindi è evidente che aver messo tutte le uova nello stesso paniere, poi quando arriva la volpe che ti spacca il paniere e tutte le uova, arrivederci, grazie. Ecco, questo è un po' stato lo schema. Però, vede, i porti sono grandi contenitori di innovazione, soprattutto nel XXI secolo, adesso questo è proprio il momento ideale, grandi contenitori di imprese, non solo quelle legate al trasporto vero e proprio, ma alla logistica, alla semilaborazione, alla produzione e quindi alla possibilità di innescare percorsi virtuosi nell'economia, non tanto e non solo del territorio sul quale insistono, ma di aree molto vaste. Appunto noi vorremmo, avremmo l'ambizione di essere il porto di tutto il Lazio e forse anche di un pezzo di Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo, perché serviamo questa fascia così importante, ma così poco considerata, che è il centro Italia. Anche su questo, se mi permette, poi ci vorrei ritornare. È evidente che... Il protagonista della trasmissione, no, 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 non sorrida, perché lo dico seriamente, quindi... Però io chiedo sempre al giornalista, come giusto che sia, io sono ospite. Io posso fare a meno anche di ascoltarlo, perché tra l'altro è molto interessante. E quindi, voglio dire, noi abbiamo la necessità, perlomeno, di provare a costruire questo porto che ha molte sfaccettature e molte attività. Pensare di crociolarsi solo nel benessere, perché c'è, è stato importante, delle crociere, forse è stato poco lungimirante. Ha creato... Però, attenzione, io non è... È difficile... Nel sedersi sulla sedia del numero uno di Molo Vespucci, è difficile, non è facile, è complesso, perché ci sono molte aspettative, perché il porto è un porto difficile, con una competizione vicina a nord e a sud durissima, e con una attenzione non sempre adeguata al nome che il governo centrale e le varie articolazioni delle altre amministrazioni hanno verso il porto. Quindi, col senno di poi, sono tutti campioni, no? E quindi non è facile, bisogna poi essere lì, trovarsi lì e nei contesti giusti. È però evidente che non, o meglio, continuare a non investire, lavorare, ragionare sul commerciale, sulle varie tipologie di commerciale, è sicuramente un elemento che frena lo sviluppo di questo porto, e frena, quello che diceva lei, la possibilità di creare e distribuire ricchezza sul territorio, sul territorio molto più vasto di quello che è solo Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. E quindi noi dobbiamo cominciare a provarci. Poi ce la faremo, non ce la faremo, ce la faremo in parte. Intanto però, io non voglio usare un aggettivo forte, mi limito a dire, la darse la grande massa. Lei sa benissimo, la darse la grande massa, come nasce, nasce, ruota intorno a tre pilastri, tre pilastri, Gavio, Enel, Italpetroli, Italpetroli si sfila, Enel, io ho avuto sempre l'impressione, sin dall'inizio però, le impressioni lei me lo insegna, sono così, possono essere anche molto fugaci e quindi molto fragili, tutto quanto. E poi Gavio, il vecchio Gavio che se n'è andato, pace all'anima sua, i suoi cosi, io tra l'altro ho conosciuto anche i suoi figli, i suoi nipoti, tutto quanto, ma al di là di questo, però, quanti anni sono, è diventato un punto un po' dolente, se così posso chiamarlo, nella questione di Civile Avecchia. Tanto è vero, tanto è vero, che la darse la grande massa non è stata presa neanche in considerazione a livello di finanziamenti. Vero? Però è vero anche che è stata, allora, lei ricordava una darsena energetica a grandi masse, che già nel nome, se vuole, io mi permetto di dire, vorrei cambiarlo, vorrei renderlo anche un po' più giornalistico, anche un po' più appetibile, perché anche nell'acronimo Degm ci si ferma su Gargarozzo, diventa una roba proprio anche difficile da pronunciare. No, però voglio dire, i nomi fanno anche la differenza, la capacità di vendere o promuovere un prodotto, no? Cioè, il prodotto migliore del mondo, con un nome impronunciabile, diventa difficile anche farlo capire alla gente. Allora, al di là di questo, quella darsena che descriveva lei, era una darsena pensata e ideata ai primissimi, anzi, tra la fine dell'anno 90 e i primi anni 2000. Il mondo è cambiato due volte da allora, perlomeno, anche sotto il profilo dello shipping, sotto il profilo dei trasporti internazionali, sotto il profilo della centralità di alcune merci o tipologie merceologiche rispetto ad altre. Quindi quel progetto originario, se ripresentato oggi, oltre che essere anacronistico, è irrealizzabile. Va rivisto e corretto. Va rivisto e corretto e lo stiamo rivedendo e correggendo. Però è chiaro che per fare quel tipo di lavoro, per fare quel tipo di grande investimento, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di una promozione nel senso tecnico e istituzionale adeguata. Va fatto un lavoro col Parlamento, va fatto un lavoro con il Governo, va fatto un lavoro con il Governo regionale, con le entità locali e questo oggettivamente nei cinque mesi che ho avuto a disposizione non è stato possibile fare. Ma non è una cosa che non abbiamo nell'agenda. L'abbiamo nell'agenda ma va costruita bene, va costruita con le giuste motivazioni, vanno portate anche le argomentazioni tecniche di fattibilità economica e finanziaria, perché noi dobbiamo smettere in questo Paese di fare le opere e poi cercare a valle di giustificare il motivo per il quale esistono, perché poi pagheremo sempre il debito, come direste a Roma, fammoli buffi. E quindi non possiamo permettercelo. Però vede, anche lì, attenzione, una cosa di benefici molto puntuale, tecnica, aritmetica, rischia di non prendere in considerazione tutti gli aspetti che però un territorio come questo ha il potere e credo anche il dovere di rivendicare. Cioè, un lavoro che è stato fatto molto importante a nord, diciamo, per i porti del nord di Civitavecchia, per i porti a sud di Civitavecchia, Civitavecchia non lo ha visto, almeno negli ultimi 15 anni. Quindi io credo che noi si abbia anche il diritto di rivendicare un certo tipo di attenzione e di possibilità di stare in uno scenario di mercato internazionale. Quindi la darsena energetica va ripensata, va pensata sicuramente per il contenitore, ma io mi permetto di dire, e vorrei aggiungerci questo, anche per il rorò di ultima generazione, cioè il traghetto di ultima generazione. Perché? Perché noi adesso stiamo già andando a completare, a breve le inaugureremo, la nuova darsena traghetti, che ha dei pennelli da 240 metri, che sono le massime dimensioni delle navi da traghetto in questo momento in circolazione. Ma grandi player mondiali, alcuni anche italiani, stanno mettendo in linea e stanno ordinando navi traghetto da 260-270, quindi noi arriviamo al paradosso che inauguriamo una nuova darsena che nei fatti a breve è già superata, se volete, in certi tipi di dimensioni. Allora noi per rafforzare un ruolo che abbiamo già, ricordiamocelo, Civitavecchia nasce come il porto della continuità territoriale con la Sardegna, quindi da dove partivano i traghetti, da dove partivano i traghetti delle ferrovie fondamentalmente. Quindi quel ruolo, quella vocazione, Civitavecchia, ce l'ha nel DNA da sempre. Allora prima di andare a inventarci cose nuove che non sappiamo fare, perché non andiamo a sviluppare in maniera migliore, in maniera più radicale, quello che sappiamo fare già bene? E quindi io direi che all'interno di questo nuovo progetto che stiamo cercando di ridisegnare, ritagliare sicuramente anche uno, due pennelli da 260-270 per quella caratterizzazione molto forte relativa alle autostrade del mare, se vuole poi noi ci torniamo. Io vedo per Civitavecchia, data anche la sua posizione geografica, un futuro importante anche di collegamento sempre attraverso l'autostrada del mare, quindi sempre attraverso i Rorò, con il Nord Africa, che peraltro è una vocazione millenaria. Io non devo certo insegnarlo io a voi, insomma, Traiano da qui andava in Cirenaica, andava in Egitto, andava in Tripolitania a prendere il grano fondamentalmente. Quindi non è che ce lo inventiamo, lo facciamo da duemila anni. Quindi perché non riprendere, chiaramente, chiave moderna e attualizzata, attualizzata alcune vocazioni e alcune posizioni che questo porto e questa realtà ha già avuto nel suo DNA per secoli. Senta, Presidente, nei momenti, dopo poi, toccheremo anche il discorso, perché lei ha toccato già, così, questo problema della Sardegna, perché è possibile che possa diventare un problema, in quanto la linea Civitavecchia-Cagliari, se ne parla io almeno leggendo, c'è qualche... Ma, guardi, le linee, in qualche modo, come dire, vanno e vengono, nel senso che gli operatori... Però la richiesta, insomma, la domanda di connettività c'è, e anzi è una domanda che negli anni è salita. Quindi può esserci che qualche operatore più o meno vada e venga, non che scompaia la necessità di connetterci all'isola della Sardegna. Insomma, quindi sarà anche capacità, sicuramente, del mercato e nostra, eventualmente, di fare da coordinatori di questa cosa, riuscire a mantenere comunque una posizione anche di forti collegamenti con la Sardegna. Quindi ci state lavorando? Sì, sì. Però non c'è dubbio. Senta, Presidente, Civitavecchia-Porto di Roma. Quindi, quando uno parla Roma, beh, già il nome dice tutto. Allora, Porto di Roma, vedi, lo dicevo prima, il problema è che in questa fase, e io devo dire la verità, non l'avevo ancora percepito prima di arrivare, è che noi ce lo diciamo che siamo il Porto di Roma, ma Roma si è accorta che noi siamo il suo porto. Oh, ebbè, adesso diranno che ci siamo messi d'accordo. No, giura. No, perché mi ha letto nel pensiero. Senta, nei suoi momenti di, non lo so, troverà il quarto d'ora per una leggevo, così per una riflessione, per stare con se stesso. Sì. Ha mai pensato al flop dei container? Allora, più di un quarto d'ora. Più di un quarto d'ora. Allora, vede, anche lì, ci sono dinamiche che sono legate relative alla mancanza di infrastrutture e di investimenti che questo porto poteva fare e non ha fatto nel corso degli anni, la connettività ferroviaria, la connettività stradale di Ultimo Miglio. Cioè, che parliamo allora, ci mette orte. Ma anche proprio l'ultimo pezzo, cioè il fascio binario all'interno del porto, l'arrivo all'interno del porto. Però attenzione che quelli poi nel corso del tempo sono diventati pure degli alibi. E mi permetto di sottolinearlo perché io recentemente, anche durante la bellissima celebrazione di Santa Fermina, abbiamo avuto la possibilità di passare con il rimorchiatore. Noi avevo tutte le autorità a bordo e quindi mi sono permesso di fare anche un po' di promozione istituzionale. E in quel momento, ormeggiato al terminal contenitori, c'era una nave da 9500 TiU. Cioè, da 9500 contenitori. Una nave che ha bisogno di 13,50 metri di fondale e che da noi arriva con un rimorchiatore. Se ne va senza rimorchiatore. Cioè, come parcheggiare una smart in un parcheggio molto ampio. Fondali che noi abbiamo e navi che noi possiamo ospitare in estrema facilità, che porti limitrofi, si sognano. Io faccio un esempio, è consentita anche dalla legge, la pubblicità comparativa. Livorno ha un fondale da 11,70 metri. Che adesso punterà a portare a 12, 12,50 con un investimento pubblico di centinaia di milioni di euro. Quella nave, finché non hanno completato il lavoro di dragaggio, se la sognano devono fare i salti mortali con avvitamento, anche solo per vederla da lontano passare col binocolo. Da noi arriva e non fa neanche notizia. Nessuno ne parla. No, da quel punto di vista lì, poi noi abbiamo dei fondali che sono proprio... Da quel punto di vista. ...non più sulta. E questo è il dramma, fra virgolette, chiaramente. Qual è il problema? Che noi abbiamo una capacità operativa che altri porti si sognano e che da noi arriva con naturalezza, con la possibilità addirittura di arrivare molto agevolmente a 16, 18 metri di fondale. Cioè al fondale che ci permette di avere quasi tutte le navi di ultima generazione e contenitore le più grandi, le 20 mila, fino alle 21 mila. Insomma, quindi tutto quello che ci potrebbe servire da qua i prossimi dieci anni. Eppure non riusciamo a fare contenitore. Allora, io sto analizzando, ho un po' di ricostruzioni, poi non voglio... Però Presidente, mi scusi, mi perdoni, con il gestore del settore del primo assoluto in Italia, attenzione. Sì, certo, però lei deve... Però c'è la leadership proprio di tutto. Però ci sono anche delle dinamiche lungo... Io non voglio fare il nome, però... Lungo il tirreno... Siamo benissimo. Però ci sono dinamiche lungo il tirreno dove lo stesso operatore ha molti porti. E quindi noi dobbiamo capire e verificare, stiamo lavorando bene con l'operatore, devo dire la verità, che ovviamente è un operatore leader, per capire quali sono i limiti. Io sono andato molto, basicamente, lei avrà capito che sono un uomo abbastanza diretto, e io sono andato a dire, mi spiegate con una lista della spesa il perché non riusciamo a fare delle cose. E loro mi hanno dato una serie di problemi. E noi stiamo andando a cercare di risolvere quei problemi. Mi aspetto chiaramente che una volta risolti quei problemi, visto che sono quelli che mi sono stati detti come limite alla crescita, potremmo pensare di puntare alla crescita. Perché, attenzione, io sono molto laico da questo punto di vista. Non parliamo di numeri fantasmagorici, almeno per il momento, ma quel terminal ha una capacità operativa teorica, oggi, da 250.000 a 300.000 a 300.000. Ma Roma? Roma? È l'Interlande di Roma? Sì, ma noi abbiamo... Ebbè no, perché, attenzione, mi permetto di dire, questa è una ricostruzione leggermente semplicistica. Noi non abbiamo i volumi in uscita. Il nostro problema per i contenitori non è che abbiamo Roma alle spalle, è che Roma e il Lazio, alto, non ha industrie che producono volumi sufficienti per far andare via la nave piena. Regola base dello shipping è che le navi devono andare via, con le stive sempre piene. Questo è il nostro limite. Il limite non è in entrata, il limite è in uscita. Questo è il problema fondamentale. Perché? Perché soprattutto l'Alto Lazio non ha, ancora al momento, avuto una industrializzazione, lo stabilimento di manifattura di un certo tipo che preveda anche i volumi in uscita. E quindi, fondamentalmente, quando il armatore deve pensare di mettere la linea, a quel punto sa che può andare su Livorno, dove i volumi raggruppano, può andare addirittura alla Spezia, dove raggruppano, o Napoli-Salerno, dove raggruppano. Ecco dove è un grande limite. Allora noi dobbiamo agire lungo tutta la filiera. Dovremmo pensare complessivamente, mi permetto, non certo io, povero, misero presidente dell'autorità, ma assieme agli altri player istituzionali e a Confindustria e all'imprenditoria, di stabilire più impresa, più industria nella parte dell'Alto Lazio. Questo potrebbe permettere di concentrare più volume. Resta il fatto che quello dei container è un aspetto di primaria importanza. Lo è. Non è il porto. Lo è, però non concentriamoci su... Come le dicevo prima, noi dobbiamo andare a costruire un menu con tante pietanze. Noi dobbiamo andare a costruire bene la nostra caratterizzazione sul rollo, sul traghetto, perché le merci rotabili sono merci che ci interessano molto. Noi dobbiamo lavorare sul contenitore. Noi dobbiamo lavorare sulle rinfuse. Noi dobbiamo lavorare sulle merci varie, sul project cargo. Cioè noi andiamo a prenderci nicchia per nicchia, mi passi questa metafora, ogni grammo di traffico disponibile. Non c'è un traffico più bello degli altri, fra virgolette. Nel senso che quando sei in una condizione come la nostra, dove il traffico è relativamente basso, tutto quello che puoi prendere va preso e possibilmente andando a intercettare magari quelle nicchie che in questo momento per vari motivi, o di saturazione, o di mancanza di spazi, o di altre carenze, i porti vicini non sono in grado di intercettare. È lì dove riusciamo a, mi passi il termine, fregarli. Perché altrimenti andare allo scontro frontale con porti che sono in questo momento già in grado di fare 5-600 mila tiubi, abbiamo perso, perché siamo partiti con 300 metri di ritardo, capisce? Quindi, da questo punto di vista, noi dobbiamo lavorare, ci vorrà del tempo, perché partiamo con un considerevole ritardo, però è altrettanto vero che i mercati dello shipping sono molto dinamici, molto veloci. E quindi, se ti muovi bene e sei, fra virgolette, giustamente aggressivo, riesci anche a intercettare. Un pezzetto di qua, un pezzetto di là, crea un circolo virtuoso che può portare alle merci. Noi dobbiamo avere, però, il buon senso e la capacità di tenere i piedi per terra. Non diventeremo mai Rotterdam per motivi fisici, quindi noi dobbiamo evitare anche di raccontare fuffa alla gente. Ah, certo. Come no? Però possiamo diventare sicuramente un porto più competitivo sulle merci, migliore di quello che siamo e, peraltro, in combinazione, mi permetto, anche se... Non c'è dubbio. ...la trasmissione di Civitalecchia, però in combinazione anche con il lavoro che stiamo facendo a Gaeta, che è un altro porto che sta crescendo molto bene sulle merci e con quello che cominceremo a fare costruendo il nuovo porto di Fiumicino che, se Dio vuole, parte a dicembre, costruire un sistema portuale in grado di dare delle risposte serie ai mercati. No, no, io sono accordo con lei. La real politica vale anche per la portualità. Sicuramente. C'è poco da fare. Uh, sicuramente. Vale per tutto. Senta, Presidente, che idea si è fatta della privilegia? No, 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 perché al di là del fatto perché io mi auguro che soprattutto per le maestranze, per chi lavora, che possa avere un attimo di respiro, la speranza che tutto si possa risolvere bene, però da quello che sto notando, perché oltretutto lì è una vasta zona che all'interno del porto sarebbe utile, chissà, per i progetti che magari ci avete anche... Sicuramente è una zona appareggiata, è una zona già infrastrutturata che ha dei magazzini estremamente interessanti. Allora, è chiaro che io, come dire, ho trovato questa situazione. Ho trovato, certo, perché... E ho sulla carta degli imprenditori e quindi non è che noi li cacciamo, anche perché se poi vorrei che ci ricordassimo sempre, se noi cominciamo a dire no a tutti gli investitori che arrivano, già non abbiamo una coda di investitori fuori dalla porta. Se cominciamo a spargere la voce che noi siamo quelli che danno anche fastidio all'impresa, non viene più nessuno. Quindi dobbiamo avere comunque un atteggiamento orientato a tenere gli imprenditori che ci sono ed eventualmente ad accogliere nuovi imprenditori con il giusto spirito. Però io ho chiesto delle informazioni alla proprietà, insomma, al concessionario che non sono ancora arrivate. Le ho richieste in svariate... Svariate, insomma, tre, quattro riunioni. Cominciamo a non avere più molto tempo, nel senso che le domande che facciamo sono abbastanza semplici, le risposte presuppongo dovrebbero essere semplici altrettanto. Nel corso di questa settimana dovremmo avere un ulteriore confronto nel quale io mi aspetto che mi vengano date delle informazioni precise, soprattutto rispetto alla timeline, insomma, alla linea del tempo che loro hanno in mente di fare per investimenti, ripartire, muoversi. da quelle informazioni che saranno informazioni che non è che danno a Gigi Erbuzzi col bar, ma al presidente del porto, noi trarremo delle valutazioni perché noi prenderemo quelle informazioni come delle informazioni scritte sulla pietra e da lì ci muoveremo. Chiaro che, essendo noi, che questo ogni tanto forse anche qualche collega nel passato ce l'ha dimenticato, l'autorità di sistema portuale, no, sempre una legge ha compiti di promozione, sviluppo, controllo, strategico, leggo regolamentazione e controllo. Se voglio, giro anche la pagina, non leggo solo il frontespizio, mi ricordo anche di avere il ruolo di regolamentazione e controllo che, se necessario, e per utilizzare al meglio il demanio con lo scopo di creare il massimo della ricchezza possibile, utilizzeremo anche nel caso di privilegi. Io spero di no, però non ci spaventa utilizzare tutti gli strumenti che la legge ci consente di utilizzare per far crescere il nostro scala. Presidente, adesso un po' si batte il ferro abbastanza, che ormai è arroventato, del cosiddetto port core. È arroventato, l'ho svegliata io sta cosa negli ultimi cinque mesi, perché non è... Non lo stavo dicendo, non parlava nessuno. Gli hanno avrei dato atto, gli hanno avrei dato atto. Non ne ha parlato mai nessuno e questo a me personalmente fa pensare ma non voglio entrare in termini proprio critici, però chi l'ha preceduta nel corso degli anni forse non si era mai reso conto che ci fosse anche questa grossa chance del cosiddetto porto-corre. È questo evidentemente. Però lasciamo stare. Che non se ne siano accorti è grossa. Magari non avevano pensato che fosse una delle priorità del porto. Lei è molto elegante e gliene ho dato proprio non se ne sono accorti. C'è poco da fare e c'è poco da dire perché è impossibile perché è una grossa opportunità come il porto-corre. Lo stesso io che sono proprio al mille per cento ignorante in materia non sapevo che fosse. Quando l'ho letto ho letto il porto-corre che tra l'altro e poi che cosa perché praticamente ci sono quei finanziamenti da parte dell'Unione Europea si accede con progetti ciò veramente quando l'ho letto ho letto tutto quello che comporta il porto-corre sono balzato sulla sedia ho detto ma come qui non ci abbiamo ci abbiamo dal 94 e poi l'autorità portuale è vero che il porto-corre forse è stato una decina di rifatto dopo credo che siano dieci anni l'ultima revisione del 2013 ma la prima revisione allora se mi permette i porti-corre o le infrastrutture-corre sono i nodi infrastrutturali centrali della rete di connettività europea che sono le reti-tent-t mi faccio fare l'esempio neurologico c'è un sistema nervoso centrale e lungo questo sistema nervoso centrale che sono le reti-tent-t ci sono dei neuroni più importanti i porti-corre e dei neuroni meno importanti che sono i porti-comprehensive questa rete complessiva è la rete che connette i 27 paesi dell'Unione dalla Scandinavia alla Sicilia dal Portogallo alla Polonia fondamentalmente lungo assi orizzontali e verticali di questi corridoi ne passano 4 in Italia uno lo ScanMed lo Scandinavo Mediterraneo passa anche vicino a noi attraverso passaggio su Roma che poi scende verso Napoli ma lungo questo sistema di connettività esistono appunto questi porti-corre cioè i porti centrali ritenuti tali dall'Unione essendo porti centrali esistono linee di finanziamento come la Connecting Euro Facility che adesso nei prossimi 7 anni sarà rifinanziata per 36.2 miliardi non Baggigi non Bruscolini che vanno finanziamenti solo esclusivamente apporti di rango core quindi non essere porto-core ci preclude completamente la possibilità di accedere a questi miliardi ma le dirò di più la progettazione europea diciamo ordinaria prevede che tu possa presentare in autonomia o partecipare a delle call in autonomia solo se tu sei porto-core se non sei porto-core tu devi come nel nostro caso e devo ringraziare il mio ufficio politico europeo che è d'eccellenza perché nonostante il non essere porto-core riusciamo comunque a ricevere molti finanziamenti e a partecipare a molti progetti europei quindi io ringrazio sicuramente i miei collaboratori che sono di altissima qualità da questo punto di vista ma il non essere porto-core non ci permette di partecipare da solo dobbiamo appoggiarci ad altri porti allora capite che queste cose sono estremamente limitanti estremamente limitanti per una serie di motivi non ultimo il fatto che c'è un ulteriore corridoio che è un corridoio non geografico come gli altri ma che sta attorno a tutto al continente che è quello delle autostrade del mare il corridoio delle mosse per poter fare autostrade del mare che come vi dicevo prima è una delle nostre vocazioni principali è uno dei nostri punti di forza principali noi avremmo sicuramente molta più possibilità di lavorare per costruire delle mosse europee nella misura in cui fossimo porto-core tutti questi e concludo tutti questi elementi vorrei ricordare che per lo Stato italiano sono a costo zero cioè patrocinare e spingere la riconoscimento dello status di porto-core a Civitavecchia non ha un costo è semplicemente una scelta di natura politica che cosa succede? che queste reti TNT questo sistema neuronale come dicevo prima viene revisionato ogni dieci anni l'ultima revisione è stata fatta con l'adozione del regolamento 1315 2013 oggi siamo nella fase di negoziazione per la revisione che doveva prendere luogo nel 23 chiuderà invece un po' prima chiuderà nel 2022 le dico qual è la procedura l'Italia parteciperà a tre bilaterali la prima bilaterale si è tenuta il 10 di marzo siamo riusciti grazie ai contatti insomma che abbiamo sia ovviamente con il nostro governo ma anche con il lato europeo perché noi lavoriamo molto con il lato europeo avendo anche già avuto l'esperienza a Venezia ho molti contatti in ambito di commissione siamo riusciti a fargli entrare nella discussione l'ipotesi che l'Italia presenti la richiesta di cività vecchia a Porto Corp però è evidente abbiamo pure il presidente Sassoli siamo riusciti a far fare una lettera a convincere il presidente della regione che devo ringraziare perché ha avuto la sensibilità per fare questa lettera se mi permette noi siamo ancora in tempo noi siamo assolutamente in tempo è questo il momento come hai pensato proprio pochi giorni fa si era creato il problema a Brindisi perché Brindisi che aveva fatto la richiesta di far parte di Porto Corp però c'era stata un po' la protesta perché Comune e Regione non avevano ancora presentato la proposta per far diventare il Porto di Brindisi Porto Corre perché doveva essere esaminato entro il 5 lo scorso 5 maggio in realtà non è proprio così allora ci sono appunto le dicevo c'è stata questa prima bilaterale questo è stato scritto ce ne sarà una vabbè ma sai quando uno buca le date poi magari si inventa anche una storia però pressa poco la storia è questa la storia è questa le prossime due bilaterali da qui al 31-12-2022 saranno centrali perché sono quelle dove l'Italia a livello governativo deve presentare la lista delle modifiche che l'Italia richiederà alle reti tenti ma che non potranno essere nell'ordine delle centinaia ma neanche nell'ordine delle decine perché tenete conto che sono 27 paesi se ogni paese presenta già due o tre richieste di modifiche siamo oltre alle 100-150 modifiche dell'intera rete siamo ancora in tempo ma dobbiamo e devo dire la verità la tempestività con la quale il presidente della regione Zingaretti ha presentato la lettera indirizzata a Draghi e a Giovannini è assolutamente puntuale adesso mi auguro spero che appunto essendosi mossa anche la regione il governo non abbia che da prendere atto anche del fatto che due paradossi se vuole l'autorità di sistema portuale del martirreno centro-settentrionale la mia è l'unica che non ha un portocor delle 16 autorità italiane tenete conto ok ce ne sarebbe un'altra Messina non ha il portocor ma Messina originalmente nella legge di riforma era accorpata sui porti dello stretto stava con Gioia Tauro che invece è portocor quindi non c'è perché poi hanno splittato per motivi di non accordo tra le due regioni quindi hanno fatto un'autorità senza portocor perché non ha voluto andare con quella col portocor mentre noi non ce l'abbiamo perché ce la sono dimenticata o meglio non ci hanno inseriti c'è una leggenda metropolitana che io ho verificato fino a un certo punto ma spero che non sia effettivamente andato così che è questa teoricamente per diventare portocor uno deve avere delle caratteristiche di traffico cioè dei numeri di traffico di un certo tipo che noi teoricamente non abbiamo ma l'alternativa dice il regolamento che istituisce le reti TNT e l'ultima revisione delle reti TNT a meno che tu non sia il porto della capitale del paese dello stato membro e quindi se tu sei il porto della capitale dello stato membro automaticamente puoi accedere allo stato di portocor allora è importante essere chiamati porto di Roma il problema è che nel 2013 nessuno ha detto che si scrive Civitavecchia ma si legge Roma non gli ha detto nessuno ecco perché nel 2013 non diventammo portocor però questa è una leggenda metropolitana quindi non so se effettivamente è andato così o se ci sono state delle scelte diverse o se l'Europa ha detto di no vero è che noi questa volta dobbiamo assolutamente ricordarci di dire all'Europa che questo è il porto della capitale che è diventare portocor non toglie nulla a nessuno aumenta invece competitività e aumenta competitività dove come le dicevo prima in quella fascia di paese di cui non parla mai nessuno perché tutti parlano o del nord o del mezzogiorno come se in mezzo l'Italia non ci fosse nulla mare invece il centro Italia è un elemento fondamentale proprio perché come dire è il trade union tra il nord e il sud è l'elemento fondamentale che ci permette di collegare i due mari l'Adriatico col Tirreno è un anello di congiunzione assolutamente del quale però non parla mai nessuno cioè dell'economia del centro Italia non parla mai nessuno dello stato dello sviluppo del centro Italia non parla mai nessuno della struttura dell'infrastruttura del centro Italia non parla mai nessuno siamo tutti se volete giustamente impegnati a parlare del nord che spinge e del centro e quindi da questo punto di vista io ritengo che sia una priorità per l'intero paese e poi è chiaro che se chiede all'ossi se il vino è buono io le dico di sì perché sono il presidente del porto di Civitavecchia però è evidente che questa cosa aiuterebbe anche a costruire nella fascia del centro Italia delle connettività che servono a tutta l'economia del paese perché se uno dal nord vuole andare al sud passa per il centro Italia se uno dal sud vuole andare al nord passa per il centro Italia se uno dall'est del paese cioè dalla parte adriatica vuole andare nella parte tirenica passa per il centro Italia e invece siamo considerati il vaso di coccio in mezzo ai due vasi di ferro ma sa io sono invece dell'idea che è colpa come dire se non ti considerano è colpa tua che non ti sei fatto considerare no cioè io sono più proattivo del fatto cioè non vado a dire che cattivi che sono stati quelli che non mi hanno ascoltato mi chiedo io penso come lei mi chiedo ho fatto a sufficienza per essere ascoltato bravo non posso parlare e non mi permetto di parlare del prima perché ovviamente però posso dire che oggi è una battaglia se posso dire in cui credo molto che credo serva anche proprio a caratterizzare e a responsabilizzare il porto di cività vecchia perché una volta che diventi porto core significa anche che tu devi rispondere come dire a certi standard e a certe capacità progettuali quindi ci imporrebbe di giocare meglio e passare dalla serie B alla serie A c'è un altro punto che a me mi ha colpito molto per il quale lei mi insegna che parlarsi addosso è la cosa più più sbagliata che c'è però è stato un argomento che noi abbiamo dibattuto a più riprese più riprese però mi ha colpito molto il favore ovviamente di lei grazie che è riuscito a saldare perché ha colto subito l'occasione la netta netta frattura che c'era tra porto e città cioè che a certo punto qui a Cilecchia noi per lunghissimi anni anzi quasi sempre da quando è stata istituita la legge 84-94 noi il porto una cosa proprio un corpo estraneo rispetto alla città invece questa congiunzione secondo me è foriera di grossi ma guardi io credo sia inevitabile soprattutto però lei ha accolto subito che c'era questa frattura allora due cose vengo da una presidenza e da una città che ha avuto a sua volta una grande problematica tra il porto e la città e al punto tale da come dire separarsi una specie di separati in casa ma pensi un po' come dire la città portuale per Antonomasia Venezia se non era un porto non sarebbe esistita sarebbe sparita nei secoli e ha mantenuto la sua grandezza come grande potenza commerciale sul mare quindi il paradosso di avere una città che non ama il suo porto e che non sente il suo porto come un pezzo di se stessa io l'ho vissuto se vuole sulla mia pelle ma poi la mia famiglia è sempre stata coinvolta nel porto di Venezia quindi io ci sono cresciuto letteralmente nel grembo di mia madre poi ho vissuto in grandi città portuali ho vissuto a Danversa cinque anni ho vissuto a Singapore un anno e ho visto invece che cosa significa essere delle città enormemente condizionate in senso positivo dall'avere un porto perché il porto di Danversa piuttosto che il porto di Singapore sono porti nei quali tutta l'università lavora gran parte della città lavora se non lavora la città comunque attraverso l'indotto l'indiretto sviluppa economia e io faccio sempre questo esempio si leva dal pizzicagno dal macellaio ad Danversa quando parla del porto pure al macellaio gli vengono i luciconi perché si inorgoglisce perché è un elemento fondamentale dell'orgoglio del suo essere a Danversa abbiamo detto il volano dell'economia allora io trovo nelle città italiane che sono città nelle città portuali italiane che sono città portuali da secoli in alcuni casi da millenni come questa separazione che nel corso soprattutto degli ultimi cento anni non c'ha ragione di esistere e non solo non c'ha ragione di esistere ma è estraneante per il cittadino perché se tu perdi l'identità portuale perdi anche la tua storia la tua identità cioè le città portuali hanno un modo diverso di essere rispetto a tutte le altre città perché sono cosmopolite perché sono internazionali per definizione anche il cibo che mangiamo nelle città portuali è simile tra le città portuali è diverso dal resto perché abbiamo il rapporto col mare perché abbiamo il rapporto con l'internazionalizzazione quindi c'è una fortissima componente culturale dei territori che sono caratterizzati dal loro essere città portuali questa cosa credo sia da superare in tutte le città anche perché se lei non ha il supporto o almeno la comprensione del territorio qualsiasi qualsiasi infrastruttura qualsiasi sviluppo infrastrutturale diventa impossibile perché ti trovi il comitato la protesta e quant'altro allora io non lo so se ci riusciremo fino in fondo ma sicuramente io mi sono impegnato perché io ritengo così come stiamo facendo anche con Gaeta che è un altro porto letteralmente dentro alla città appoggiato sulla città se non dialogo con la città è evidente che io creo i presupposti per avere la città contro il che significa che quando mi servirà cercare di fare progetti costruire e sviluppare invece di avere il sostegno ampio del territorio mi trovo a essere in grande minoranza no ma questa fruttosa sinergia che poi diventa estremamente positiva anche proprio per l'andazzo commerciale della città perché questo è il problema e poi per far conoscere anche come ha detto lei il territorio perché questo adesso è chiaro che poi un compito abbastanza importante spetta pure all'amministrazione l'amministrazione comunale perché vede Presidente non ne sarà sfuggito un punto questo porto primo o secondo porto croceristico del Mediterraneo è un po' non lo so come una zona di parcheggio arriva la nave questi giganti del mare arrivano scendono perché l'obiettivo non è tanto di capire se a Civilecchia c'è qualcosa di interessante da visitare non so le termine di Traiano oppure qualsiasi altra cosa scendo prendo il treno perché devo andare al Vaticano perché c'è Roma questo è diventato il disco e questo qui a un certo punto è penalizzante per la stessa nostra città lo è fino a un certo punto nel senso che noi dobbiamo anche creare un prodotto appetibile lo dico ne ho già parlato anche con le categorie e quant'altro vede se arriva il crocerista i locali non fanno orario continuato dentro un locale non c'è un Cristo che parla in inglese ma poi se ne parlavo dell'amministrazione comunale ma in realtà oltre all'amministrazione comunale in realtà deve essere anche le categorie devono essere gli operatori economici ci deve essere un nucleo di imprenditori civitavecchiesi chiamiamoli illuminati che si mettono anche un po' in gioco e che creano un prodotto fra virgolette di appetibile affinché il crocerista magari alla seconda la terza crociera invece di scaraventarsi su Roma a vedere il cupolone rimane 3-4 ore in più a Civitavecchia però se noi questo afferta non gliela facciamo mai non gliela proponiamo mai e non inventiamo qualcosa di carino un po' frizzantino diverso che ci caratterizza da quello che hanno già fatto da altre parti per non essere un déjà vu non è che ci vengono in braccio è chiaro che l'attrattiva il magnete Roma aspira chiarissimamente verso questa parte attenzione il lavoro di chiamiamolo marketing territoriale che stiamo cercando di fare in maniera molto ampia coinvolge pure Viterbo coinvolge Tarquinia coinvolge Santa Marinella coinvolge tutti con forze Cerveteri però anche lì capito anche lì però stiamo sempre attenti ai numeri che possiamo fare cioè i 2 milioni e 7 comunque l'80% viene per vedere Roma non è che viene per vedere però se già noi riusciamo a spostare e piano piano per esempio sul Viterbese ci stiamo ci stiamo riuscendo a spostare alcune fette di offerta anche sul territorio credo che il territorio ne benefici però anche il territorio deve capire dopo 15 o 20 anni che gestisce crociere che per intercettare il turista crocerista che è un turista comunque con un palato un po' più fine un po' più che richiede di più di quanto più esigente che ha comunque una sensibilità un po' più marcata perché dici io sto facendo una crociera voglio fare una bella esperienza noi dobbiamo dargli appunto questa esperienza e là va costruito un percorso sempre con i piedi per terra partiamo con 10 cose non partiamo con mille cose partiamo con 10 anzi con 5 cominciamo a proporre Cività Vecchia che è tante cose a me faccio un esempio stupido se vuole però nella zona diciamo verso San Gordiano non si può fare surf da onda quando il mare lo consente poco chiaro che non sono le Hawaii chiaro che non sono le onde importanti però è una cosa che a un americano medio che magari fa surf a casa sua dire sai che sono stato a Roma e ho fatto surf però non glielo dici non glielo proponi non c'è un'infrastruttura se vuole andare a bere una birra piuttosto che un cocktail non c'è niente deve andare giù sugli sterpi ma quando ce va questo cioè se mi passa la battuta un po' no no ma è così piano piano sto prendendo anche la cadenza la cadenza civita vecchese però capisce il punto deve essere questo cioè noi dobbiamo dargli qualcosa poi andremo a verificare se le offerte che gli abbiamo costruito come territorio sono giuste sono sbagliate potevano essere meglio potevano essere peggio andavano modificate però pensare che ci caschino in braccio per il mero fatto che ormeggiano qui e basta non succede non succede da nessuna parte quindi è necessario uno scatto di mentalità e anche se vuole un po' di orgoglio da parte di tutto il territorio gli operatori economici ovviamente l'amministrazione comunale sicuramente ovviamente l'autorità di sistema portuale e anche in questo caso qua se vuole per togliere gli alibi cioè nel senso una volta che noi abbiamo fatto tutto si va dalle compagnie capiamo se effettivamente le compagnie di navigazione non hanno lavorato con noi perché non c'era il prodotto o non vogliono non vogliono lavorare con noi perché non vogliono lavorare lo dico provocatoriamente io sono certo che abbiano la volontà però devi garantirgli un'esperienza importante perché questi a bordo della nave il turista crocerista ha un'esperienza importante è una bella esperienza è quello che esattamente volevo dire io però non sarei stato mai capace di farlo come l'ha fatto brillantemente lei Presidente ultimamente proprio recentemente ho letto con molto interesse la sua lunga esposizione sul piano triennale che ha in mente questo pot che approvato approvato no no però ecco entriamo un po' nel concreto se pure ma guardi io come le dicevo è ambizioso è ambizioso beh senza ambizione non sottierei niente mi hanno insegnato che se uno punta a 10 magari fa 7 se uno punta a 1 fa 0 no 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 e quindi però dall'altro lato l'ambizioso però noi l'abbiamo tenuto neanche 100 pagine quando nel passato si facciano pot da 2-300 pagine Presidente l'ambizione è un motore che deve stare sempre al massimo dei cini io penso che io non me lo pino io credo che gli uomini e le donne che sono convinti di fare delle cose si segnano dei risultati importanti poi li almeno è la mia filosofia magari non tutti ma vanno nella direzione comunque le dicevo vede noi abbiamo tenuto il pot comunque in una dimensione che è di circa 100 pagine quindi non è il libro dei sogni non è la fiaba raccontata magari scritta molto bene è un pot molto operativo che all'interno sia interventi infrastrutturali che interventi diciamo sia sulla digitalizzazione che sulla ottimizzazione della macchina amministrativa sotto vari profili che tiene un occhio di riguardo alla sostenibilità non solo dal punto di vista ambientale ma proprio dal punto di vista della costruzione di relazioni importanti con le città di riferimento quindi con Civitavecchia Fiumicino e Gaeta che tiene in conto appunto una visione che noi volevamo il più possibile d'assieme per non essere delle isole come dire extraterritoriali ma per essere pezzi importanti vitali dei territori nei quali insistiamo ci sono parecchie opere interessanti dal appunto tutti i collegamenti di ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale che sono fondamentali e che hanno un riflesso una ricaduta anche sulla vivibilità urbana perché se in porto le merci arrivano ed escono in maniera più efficace e senza andare a impattare la mobilità urbana è chiaro che il cittadino meglio viaggia meglio perché ha meno code perché ha meno inquidamento perché ha meno problemi di mobilità appunto questo il completamento del disegno complessivo del porto perché prima o poi riusciremo a farlo anche il porto storico finiranno i ricorsi i controricorsi i straricorsi le impugnative lei che cosa prevede per esempio questa è una piccola parentesi appunto lei lei si sta riferendo al Marina Iotti tempi ci sono guardi i tempi sarebbero anche relativamente ristretti però noi abbiamo una serie di impugnative che sono state fatte da dei soggetti anzi da lo stesso soggetto davanti al Tare davanti al Consiglio di Stato che stanno bloccando il Tare si però poi ne stanno presentando altre e quindi come dire ci sono delle manovre che stanno limitando la questione però nel mio sogno se mi posso permettere di usare un termine molto forte se lei guarda il porto dall'alto come se fosse un uccello che vola ci sarà a parte a sud o a sinistra se prende la mappa il porto storico che viene ridato alla città e rivissuto dalla città rimane porto ma diventa un porto vivibile anche proprio per andare a prendere un aperitivo alla sera piuttosto che fare una passeggiata a godersi un tramonto e devo dire la verità Civitavecchia alcuni tra i più bei tramonti che ho mai visto invitati già sono stati tolte i cancelli e adesso faremo il varco fortezza nuovo che sono tutti segnali che vanno in quella direzione quando faremo quello e completeremo il collegamento e quindi la chiusura completa tra la parte marina e la parte commerciale noi andremo a caratterizzare tutto l'antemurale per la parte croceristica le banchine cosiddette attuali 23 dove c'è adesso anche la 20 e la 22 verranno eliminate e sarà tutta una banchina di riva fondamentalmente lungo la 23 la 24 con ulteriori caratterizzazioni commerciali tutta la 25 a quel punto perché non ci sarà più bisogno di dare il pezzo di 25 sud alla croceristica dedicato al contenitore la darsena traghetti dalla 26 la 27 la 28 la 29 fino alla 34 darsena traghetti il completamento della darsena servizi il plogungamento dell'antemurale e poi la possibilità alla fine come dicevamo in apertura di costruire l'ultimo pezzo l'ultimo tassello che è la vecchia darsena energetica grande in masse ma nel ridisegno che le avevo accennato in precedenza quando noi abbiamo fatto questo noi abbiamo un disegno complessivamente completamente diverso del porto di cività vecchia che passa da quello attuale al porto del futuro in aggiunta lo sfruttamento delle aree retroportuali che ci devono portare a insediare nuove imprese anche grazie alla ZLS che a breve andremo a licenziare per poi mandarla alla regione per i suoi atti veri di competenza perché poi è il provvedimento provvedimento regionale la possibilità di con l'apertura della varco a sud o meglio della marina storica la possibilità anche di mettere a posto tutta la parte delle spiagge lungo la marina e quindi cambiare completamente anche la fruibilità fino alla punta del pecoraro in buona sostanza e dall'altra parte come opere diciamo di compensazione la rimessa in condizioni di vivibilità della frasca qua dentro al poto che ovviamente parla di quattro anni ma ne abbraccia molti di più noi abbiamo tutto questo se noi riusciamo a fare questo io credo che il porto possa effettivamente verrà effettivamente ricordato come uno di quegli enti che hanno permesso di cambiare completamente il volto e la vivibilità della cività vecchia del futuro senta non mi sembra vero però il tempo è volato e ci fanno i segni perché come al solito siamo andati troppo lunghi come funziona no 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 siamo andati siamo proprio nei tempi però mancano cinque minuti io abitualmente all'ospite di turno lascio i cinque minuti senza nessuna comanda non è che debbano essere proprio il classico comizio oppure no per carità però che cosa vuol dire questa città come l'ha accolta come si sta inserendo io sono stato accolto molto bene questa è una città molto ospitale fatta di gente e lascio questi cinque minuti per dire questo adesso vediamo la facciamo dopo i primi cinque mesi poi vediamo fra sei sette mesi si rimango della stessa opinione io devo dire la verità io sono stato accolto benissimo questa è una città estremamente ospitale di gente che ha un grande cuore e anche una grande sensibilità ma la cosa che in qualche modo più mi ha colpito e se vuole mi ha fatto sentire proprio da un lato il peso della responsabilità e dall'altro la voglia proprio di impegnarmici molto è che io quando sono arrivato ho sentito una città molto triste del non essere riuscita a esprimersi tanto quanto poteva e tanto quanto voleva e quindi un po' rassegnata e questo mi ha un po' proprio umanamente fatto stare male per cui abbiamo avete talmente tante cose a disposizione talmente tante possibilità non si può avere questa sensazione quindi con moltissima umiltà e con moltissimi limiti tutti quelli che ho e se sente mia moglie ne ho tantissimi cerco ho cercato sto cercando di stimolare il più possibile il territorio nei limiti della mia competenza ovviamente nel rispetto istituzionale devo dire la verità ho trovato anche un grande sindaco che mi ha accolto con grandissima collaborazione istituzionale ma anche con grandissima empatia umana ma devo dire la verità tutti non devo ancora incontrare qualcuno che a Cività Vecchia non mi abbia dimostrato anche una grande carica è un grande supporto ecco io spero di ripagare questa grande fiducia che sto sentendo con una spinta verso appunto a riappropriarci di una posizione di un'identità ma anche di un senso di sapere poter fare le cose non è con la rassegnazione che noi costruiamo la Cività Vecchia del futuro è credendoci sperimentando qualche cosa la faremo bene qualche cosa la sbaglieremo perché chi le insegna che chi fa solo chi non fa non sbaglia però da questo punto di vista io sono molto carico non le nasconde sono stati mesi terrificanti perché tra il bilancio bocciato i problemi una maniera di questioni però sono anche molto convinto che abbiamo tutte le potenzialità per fare bene e io vorrei appunto ripagare questo grande affetto questa grande fiducia che ottengo quasi quotidianamente dai Cività Vecchiesi con i risultati che riusciremo tutti assieme a portare io non sono in grado di insegnarle assolutamente niente però lei forse ma in maniera molto precisa ha usato un verbo che è incantevole per me riappropriarci perché fino a oggi caro dottor Busolino tutto hanno fatto i suoi predecessori meno quello di riappropriarci proprio dei valori dei veri valori della nostra città comunque per quanto riguarda la portualità io la ringrazio grazie a lei di aver accettato l'invito per questa trasmissione è stata una bella conversazione molto bella e sono contento che lei la considera tale e sicuramente avremo occasione di risentirci anche per seguire passo passo quelli che sono i progressi perché facciamo pure gli scoggiuri ma sono convinto che ci saranno sotto la sua guida del porto di Cimilecchia qualcosa di buono lo faremo senza altro grazie a dottor Busolino grazie a voi e soprattutto grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci fino a questo momento a martedì prossimo ciao